Benvenuti e bentornati nel mio canale Allora, complimenti a tutti Fase successiva è la prova orale Eventualmente la prova pratica Domande, dubbi, curiosità Adesso ognuno è concentrato Sa come muoversi, sa qual è il prossimo step Il prossimo step è capire, cercare almeno di capire Come strutturare la cosiddetta lezione simulata Oppure alcuni in questi giorni citano L'unità didattica di apprendimento, l'UDA Oppure un UDA all'interno di una lezione simulata Cosa consiste e via dicendo Certamente che Leggendo anche il bando che andremo ad analizzare a breve Avevo già fatto un video riguardo I quadri di riferimento della prova orale Per A050 E quadri di riferimento della prova pratica Per A050 Lascio in descrizione tale video Che risale un anno fa Ovviamente attendiamo anche USR Che ai prossimi circa 14-15 giorni massimo Pubblicheranno in questa sezione qui Ok? Nella sezione di quadri di riferimento della valutazione della prova orale Un documento tale Da farci capire un po' di più Come verremmo valutati Ok? In poche parole Questa è la base Dove tutti quanti possono accedere Siamo su Ministero dell'Istituzione del Merito Concorso ordinario 2023 Scuola secondaria di primo e secondo grado Abbiamo visto ovviamente I quadri di riferimento della prova Ok? Valutazione della prova scritta Adesso ci tocca Di capire come funziona La prova orale Nel calendario prove Nel sito I gradatori concorsi Nel servizio Abbiamo compreso Come capire la sede Ok? Di convocazione Adesso Bisogna fare il prossimo step Il prossimo step riguarda un po' Da dove prendo queste informazioni Come Li metto insieme Come li connetto E via dicendo Certo ci può aiutare Questa pagina qui La normativa Soprattutto nell'allegato A Programmi L'allegato B Allora Per quanto riguarda Poi Ciò che riguarda Gli altri documenti Questo ad esempio Questo decreto di Rettoriale Numero 155 155 del 31 gennaio 2024 Consta di queste classi di concorso qua La 034 La 040 La 041 La B25 La B55 Quest'altro ovviamente Due riguardano un po' I posti di assegnazione Ok Il bando Di aggregazione I posti Il percentuale di riservizi Del 30% Quali regioni Appunto Sono afferenti Perché può essere Il Veneto Per il Veneto Cioè può essere La Campania Che è dedicata A parte della Basilicata E via dicendo Quindi Bisogna anche vedere Quello che ci interessa A noi Sono appunto I primi documenti Ok I posti a bando Magari Legato A E legato B Per quanto riguarda Legato B La tabella Dei titoli Valutabili Ok Quindi In questo caso Noteremo un po' Quello che Di solito Siamo anche Durante la domanda Di aggiornamento Del GPS Noi andiamo a guardare Bene Che ha il CLIL Che ha il B2 Che ha l'inglese C1 C2 Quanti punti E via dicendo I commissari Durante la prova orale Avranno Non soltanto Questa tabella A disposizione Ma avranno anche I nostri titoli Assegnati Durante L'iscrizione Che noi abbiamo Dichierato Al concorso Ordinario Quindi Ordinario 2023 Quindi ragione Per cui Sono coscienti Delle nostre Abilità Conoscenze E competenze Eventualmente Anni E eventualmente Perché no Anni di servizio Poi Un'altra Osservazione Che faccio notare Io Un anno fa Avevo Già Fatto Un video Che Costava Appunto In quadriferimento E la prova orale Lascio questo video In descrizione Un anno fa Perché In questo video Trattavo Ok Del Colloquio Le capacità Di progettazione Didattica Efficace La votazione Minima Per il superamento La capacità I diversi ambiti Che dovevano Essere Valutati Infatti Erano Quattro Il primo La competenza Di progettazione Pedagogico Didattica Con il frimento La preparazione Teorica In abito Normativo Alla collocazione La progettazione Rispetto al contesto Dato La conoscenza 40 punti Valeva Ambito 2 La conoscenza Di argomento Assegnato Le metrologie Didattiche Per adeguate E coerenti Col tema Da trattare Ambito 3 Lessico Quindi padronanza Linguistica Su piano grammaticale Sintattico E lessicale E l'inglese B2 Massimo 10 punti Ok Poi lo stesso modo Queste sono le tabelle Di valutazione Nei diversi ambiti Ma lo stesso modo Si può fare Per la prova pratica In questo caso C'erano anche Quattro ambiti Dove nel primo ambito Con massimo 20 punti Si andava Ad analizzare In una prova pratica Le competenze Progettuali Padronanza Dei contenuti In ambito 2 si andava A capire L'uso Dei metrologie Didattiche Laboratoriali Ok Strumenti Tecniche Ok Tre massimo Punti 20 Ambito 3 Analisi Rappresentazioni Risultati Certamente Dove Risultati Schematizzazione E analisi E osservazioni Facendo riferimento Anche un po' Al metodo scientifico Perché no Ambito 4 Massimo Punti 20 Argomentazione Documentazione Uso del linguaggio Del settore Tecnico Scientifico E qui C'era Le tabelle Appunto Dei punti Che i commissari Potevano assegnare Che andava Magari A non realizzare O realizzava La prova Segnata A me Stando Gravi Carenze Il candidato Realizza La prova In modo appropriato Contestualizzato Basandosi Conoscenze E certe competenze Metodologiche Strumentali E tecniche Approfondite Quindi Questo video Lo andrei Andare Anche A riguardare Come Veniva Strutturato Un po' Un anno fa Certamente Ripeto Per quanto riguarda La sezione Quadrifermente La votazione Pro orale Bisogna un po' Attendere Per il 2000 Il concorso Unitario 2023 Scuola secondaria Il primo E secondo grado Per quanto Concerni Invece Il bando Cosa racconta Il bando Cosa ci spiega Il bando Certamente Il bando Ci spiega Alcune cose Pro orale Ok Quindi Siamo Articolo 7 Pro orale Dopo aver superato La prova scritta Prova scritta Per i sostoposti Comuni Dove erano 10 15 15 E via dicendo Noi andiamo A leggerci E Rispetto Ai quadri Di riferimento Faccio notare Che Nel quadro Di riferimento Di un anno fa Non c'era Esclusivamente Scritta Una lezione Simulata Molto spesso C'era scritto Progettazione Faccio notare Eccola qua Progettazione Di un'attività Didattica Quest'anno Certamente E' uscito Questo termine Lezione Simulata Abbiamo fatto Un altro video Nel capire Cosa è Progettazione Cos'è L'unità Didattica Di Apprendimento Che cosa Potrebbe essere Lezione Simulata Lascio Tale video Anche in Descrizione Ora Guardiamolo Bene Prova orale Bando 2023 Concorso Ordinario Scuola Secondare Prima e Secondo Grado I candidati Che senza Il successivo Articolo 8 Hanno superato La prova Di cui L'articolo 6 Sono ammessa A sostenere La prova orale La prova orale Per i posti comuni A volte Ad accettare In particolare Le conoscenze E le competenze Candidato Sulla disciplina Della classe Concorso In questo caso A 050 Per la quale Si partecipa Secondo Per quanto riguarda L'allegato A L'allegato A E sono i programmi L'allegato A Programmi concorsuali Scuola secondaria Infatti In zona Classe A 050 Scienze naturali Chimiche e biologiche Io Ho qui Tutto Un programma Concorsuale Ok Di chimica Generale Inorganica Di chimica Organica Di biologia Scienze della terra E poi La prova pratica Dove Qua consta Qui cita Che alcuni articoli Dicono 8 ore 6 ore Io attendo Magari Dall'OSR Però qui C'è scritto 3 ore Quindi La prova Consiste Un'esperienza Di laboratorio Proposta Dalla commissione Simenetrice Sui temi Con materiali Posti Disposizione Dalla commissione Afferente E contenuti Previsti Nel programma Al termine La prova Sarà ridatta Una sintetica Relazione Intesa Illustrare I criteri Seguiti Della programmazione La preparazione La preparazione L'esecuzione L'esecuzione Della durata Della prova Orale Prova Scusatemi Prova pratica Delle 3 ore E' vero che La votazione Sarà una media Della prova Scritta Più la media Della prova Pratica Con l'orale Ok Quindi 100 100 E la media Delle due Pratiche orale Ritornando Qui Le competenze Didattiche Generali Nonché La relativa Capacità Di progettazione Didattica Efficace Anche Con riferimento All'uso Didattico Delle tecnologie E dispositivi E elettronici Multimediali Quindi Qualcosa Un po' Fa riferimento Alle tecnologie Educative Didattiche Finalizzata L'aggiungimento Gli obiettivi Previsti Dagli ordinamenti Didattici Vigenti Al fine Nel corso E la prova Orale Si svolge Altrisse Un test Didattico Specifico Consistenza Un'azione Eccola qua Lezione Simulata Come L'anno scorso Qui citava Progettazione Di un'attività Didattica Quest'anno Lezione Simulata La prova Orale Faremo Magari Un video Apposta Di come Progettare Magari Scrivetelo Nei commenti Oppure Proponete Voi Nei commenti Differenze Tra UDA Differenza Tra Progettazione Unità Didattica E Lezione Simulata Con tempo Ci arriviamo Giro Di un giorno Due giorni In tempo Massimo La prova Orale Per i posti Di sostegno Averte Poi parla Un po' Di sostegno Sul programma Sembra Il legato A Quindi Ognuno Di voi Dovrà Andare a Vedere Il programma Il programma Del legato A Ok Ehm La progettazione Eccola qua Poi Ritorna Di nuovo La parola Con Garantieri Inclusione Aggiungimento Obiettivi Adeguate Le possibili Potenzialità E alle differenti Progetti Di disabilità Anche mediante L'impiego Didattico Le tecnologie Dispositivi E elettronici Multimidiali Consistente Una lezione Simulata Eccola qua Anche Per sostegno Comunque Dentro Il nostro Disciplina Curricolare Mettiamoci Qualcosa Di inclusione Ok Mettiamoci La serie Presente Qua Nel punto 3 Fai Referente Anche al punto 4 Ci deve Essere Ok La provo Rana Durata Massima Complessiva Di 45 Minuti Nel nostro Caso 050 Certamente Scuole Secondarie Salvo Quanto Previsto Articolo 8 Quindi Anche qui Specifica Che non deve Essere La lezione Simulata Che verrà Esposta Non deve Essere Superiore Alla Metà Del Tempo A disposizione Quindi Circa 15 20 Slide Massimo E Mettiamo Deve Superare 20 Minuti Circa Ok Quindi Femmissando Gli eventuali Tempi Aggiuntivi Per chi Ha 104 Decreto Ministro Per la Pubblica Amministrazione PA Legato A Quindi Questo Qui Individua Le classi Il concorso Per il quale Svolta Nell'ambito La prova orale La prova pratica E ne definisce I criteri Di predisposizione A parte Le commissioni Giudicatrici Perché Le tali Commissioni Giudicatrici Hanno Le loro Competenze E le tempestive Di svolgimento Per le classi Concorse Qui Riportate La prova orale Condotta in lingua straniera Oggetto di insegnamento La prova orale Per i posti comuni Di sostegno Valuta Atresi La capacità Come ho citato Di livello B2 Che varrà 10 punti Di riferimento In lingua eccezione Candidati Per le classi Di concorsi Qui presenti Che sono tutti inglesi Valutazione Prove E dei titoli Allora Le commissioni Giudicatrici Dispongono Di 250 Punti Di cui 100 Per la prova Scritta 100 Per la prova orale 50 Per i titoli Ok La commissione Assegna La prova scritta Di cui All'articolo 6 Un punteggio Massimo Di 100 punti Quindi La prova È superata I candidati Da 70 punti La commissione Assegna La prova orale Un punteggio Massimo Di 100 punti Ok E la prova È superata I candidati Che consegono Un punteggio Non inferiore A 70 punti Nel caso In cui L'allegato A Prevede Lo svolgimento Della prova Pratica Anche lì 100 punti Per la prova Pratica E 100 punti Per il colloquio La condusione Ai seguenti Esensi Il voto Della prova orale È dato Dalla media Aritmetica Della rispettiva Valutazione Pratica Orale Supereranno La prova orale I candidati Che consegono Un punteggio Complessivo Della media Minimo Di 70 punti Su 100 Quindi Tutte e due Su 70 Superati La commissione Assegna Titoli Accademici Scientifici Professionali Attenzione Con un punteggio Ommace Il titolo Anche Eventualmente Questi qua Massimo Complessivo Di 50 punti Per disposizione Le prove Commissione Nazionale La redazione Dei quei siti La prova scritta Anche a titolo Oneroso È assegnata Di livello Nazionale A uno Più Università E consorzio Universitaria Enti pubblici E via Di form SPA Le domande Le tracce Le prove Sono predisposte Da ciascuna Commissione Giudicatrice Secondo i programmi Di articolo 10 La commissione Le predispongono In un numero Pari A tre volte Quello dei candidati Ammessi Alla prova Cioè Ciascun candidato Estrae le domande Disciplinari All'inizio Della prova orale La traccia Da sviluppare Per svolgere La lezione Simulata È estratta 24 ore Prima Del l'orario Programmato Per la prova Propria Prova E le tracce Estratte Sono esclusse Dai successivi Per sorteggi Anorgamente Le tracce Le prove Pratiche Laddove Previste Sono predisposte A ciascuna commissione Secondo il programma Allegato a E le commissioni Predispongono Le tracce Numero pari a tre volte A quelle delle sessioni Di prova Pratica Previste La traccia Per ciascun turno Di prova Pratica Estratta All'atto Dello svolgimento Della stessa Eccolo qua Lo dice qui La traccia Per ciascun turno Di prova Pratica Estratta All'atto Dello svolgimento Della stessa Il quadro di riferimento Quindi presumo Che ci sia Primo un orale Per una pratica Ora vedremo Il quadro di riferimento Io aspetterei Anche l'USR Comunque Non aspetterei A prepararci Cioè Iniziamo già adesso A prepararci Il quadro di riferimento E la valutazione A prova scritta E le prove orali Sono ridate Da commissione nazionale E dovranno Essere pubblicate Sul sito Del ministero Almeno dieci giorni Prima dello svolgimento Delle rispettive prove I quadri di riferimento Ecco Quindi Se i quadri di riferimento Valutiamo Andiamo a guardare Ogni giorno Questo sito Qui Ok Questo Nella voce Non neanche Il quadro di riferimento A prova orale Dieci giorni prima Dove dopo Dieci giorni Sarà già avviato Ovviamente Come Attraverso Anche la ripescaggio Di una lettera Con Sottospecie La lettera Del cognome I quali Riferimento Per la valutazione A prova scritta E la prova orale Sono ridati Tali La commissione nazionale E tre serie Incaricati Validati Questi Sottospecie Con successivo Decreto Del capo Dipartimento Per sistema educativo Di istruzione E formazione Si provvede A definire La composizione Della citata Convenzione nazionale L'elegato Corsi per i titoli Per i titoli Di esami E via dicendo E poi Comune Sostegno Ripartizione Relativi Punteggi Poi Riguardo Step Successivo Le graduatorie Di merite Regionali Quindi di tipo Regionale La commissione Giudicatrice A seguito Gli esiti Della prova Scritta Orale Pratica E valutazione Dettile Procede La compilazione Gradiatorie Di merito Regionali Distinte Per classi Di concorso E tipologia Di posto La gradatoria Dei vincitori Per ogni classe Di concorso E per sostegno E compilato Sulla base Della somma Dei punteggi Delle prove Dei titoli Ed effettuato Solo ai candidati Che abbiano superato Tutte le prove Previste La predetta Gradiatorie Composta Da un numero Di soggetti Pari Al massimo I posti previsti Dal bando di concorso Fatta a salva L'integrazione Nel limite Dei posti banditi Della gradatoria Nella misura Delle eventuali Rinunce All'emissione In ruolo Perché potrebbe Eserci qualche rinuncia Magari perché Per un posto Lontano Successivamente Intervenute Con i candidati Che hanno raggiunto Almeno Il punteggio Minimo Previsto Per solamente Le prove Concorsuali Poi ovviamente Qui racconta Anche il fatto Della parità Di punteggio Complessivo Che si applicano In determinate Condizioni Si racconta Anche che Le graduatorie In meteo Sono approvate Con un decreto Dell'USR Responsabile E che le graduatorie Hanno valità Annuale A decorrere L'anno Scolastico Successivo A quello Di approvazione Delle stesse E perdono Efficacia Con la pubblicazione Gradatoria Del concorso Successivo E comunque La scadenza E poi Periodo Fermo Restando Il diritto Dei vincitori All'emissione Duolo O Occorre Anche negli anni Successivi In caso Di incapienza E posti Destinate Anualmente Le Assunzioni Limite Facoltà Assunzionabili Disponibile La legislazione Vigente Allo scorrimento Dei graduatori Di merito Regionali Si applica Procedura Autorizzata Tale Articolo E successive Modifiche La rinuncia A ruole Da una Delle Gradatorie Di merito Regionali Comporta Escolissimamente La decadenza Gradatoria Regolativa Poi Racconta Infine Un po' Racconta Qui Le commissioni Andate Anche a leggere Le commissioni Giudicatrici I requisiti Dei presidenti Come Sono stati Nominati Le requisiti Dei componenti I requisiti Dei componenti Aggregati E le condizioni Personali Costante Vali In carico Di presidente Dei componenti Dei commissioni La formazione Dei commissioni Giudicatrici Attraverso Il loro Curicum Vite Qui ovviamente Di tali regioni Valle d'Aosta Provincia di Trento E Bolzano Norme Di saguarà Di ricorsi Altare Entro 30 Entro 20 Giorni Oppure Ricorso giudizionale Altare Entro 60 Giorni Le norme Di salvaguardere CCNL E via dicendo Vorrei tornare Solo su Riguardo Al Ciò che racconta Riguardo Ai Commissioni Commissioni Giudicatrici E Vattori di merito Già detto Ecco Istanze Di partecipazione Con Concorse Bandi Unica regione Scelta Ok Per una sola Classe Condistinale Ok Nonché le Istinte Nazioni Candidati Quindi Quindi I candidati Che optono Diverse Classi Di concorso Dovranno Fare Diversi Colloqui Per quella Classe Di concorso Lì Il contenuto Gli istanze Di partecipazione Disciplinato Dal bando Durante L'iscrizione Via dicendo I bandi Disciplinano I requisiti Generali Di ammissione Le modalità Di informazione L'organizzazione Prove D'esami Contingente Di posti Il tema Di contenuto Tutto ciò Che è preseggiuto Qui Nella normativa Ok In questa seconda Parte qui Spero di aver Detto Tutto Dateci Un'occhiata E che è interessante Infatti Nel lontano 11 luglio 2022 Ho riscoperto Di aver fatto Questo video Al di là Dei quadri Di riferimento La prova scritta 050 UDA Curricolare UDA Sostegno Schema Guida E terminologia E avevo Parlato Riguardo Cosa sia Il modulo Didattico Il progetto Didattico Le terminologie Uscite Dal 2016 Anche Grazie Alla Buona Scuola Ok La programmazione Didattica La progettazione Didattica Che abbiamo Visto Citato In questo Video L'unità Didattica E l'unità Di apprendimento Che cos'è Un'UDA Un'UDA Si rimanda In prossimi Video Ovviamente Da allora Nel 2022 Sono passati Due anni Schema guida UDA Disciplinare Schema guida UDA Sostegno E le conclusioni Come vedete Provate Inserirò Questo video In descrizione Dove Avevo Parlato Bene Cosa sia Una programmazione Interdisciplinare Pluridisciplinare Multidisciplinare Avevo citato Cosa sia Scusate Avevo citato L'unità didattica L'unità di apprendimento Che cos'è Un'UDA Uno schema guida Disciplinare Come lo possiamo Comprendere a pieno Nelle diverse Sezioni Ok Obiettivi specifici Di apprendimento IOSA Cercare Di capire Ok Cosa significassi Per ogni Categoria E Ce l'abbiamo Cercato Di Interessante Inserire Magari Un compito Autentico Dentro La situazione Al problema Sarebbe anche Interessante Come possiamo Confrontarlo Ad esempio Con una scheda Di tipo Sostegno Schema guida Di Uda Sostegno E l'abbiamo Confrontata Appunto Con Uda Disciplinare Dove Certamente È una base Una struttura Per creare Il nostro PPT Ok Il nostro Powerpoint Io spero Di aver detto Tutto Ho ripreso Alcune informazioni Personalmente Spero Che siano Utili E Noi ci vediamo Nel prossimo Video Ciao Tutto Ho ripreso Alcune informazioni Personalmente Spero Che siano Utili E Noi ci vediamo Nel prossimo Video Ciao Ciao